ciao a tutti sono ariar oggi sono tornato su layers of fear e ho rimesso le cuffie per ambientarmi un po meglio all'interno del dello scenario di gioco e andiamo perfetto siamo siamo qui ok avevamo trovato questo vogliamo vedere qualcosa nel frattempo cosa c'è qui niente non c'è niente come al solito andiamo a vedere ma gone andata perché ti richiudi non ti richiudere ma porca sta a prendere il culo ma chi è che fa lo stupido non è da qui che siamo di vabbè ma qui ormai siamo abituati se vado di qua se c'è niente se vado di qua è uguale ora comincio a girare in tondo guarda ora non ci stanno più manche le porte sicuro e poi giriamo in tondo là 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 giriamo in tondo là 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 fino a chi è poi se stufa chi è salve c'è una porta oh ma c'era anche qui una porta non l'avevo vista chiusa cos'è questo fiammiferi gli diamo a lucius e basta con sto casino oh c'è un tablet vanno a porta fuori sembra mi sembrato di sentire mi semprato mi era sembrato di sentire un rumore cos'è invito tizia mi piace invitare il loro matrimonio sabato 9 giugno cappella di san luk mi sa che ce l'ho da fare il buio ecco qua che fai stai going in circle lo so sto andando in cerchio se mi fai prende un colpo scusami l'ombra eccoci giro piano piano una lucetta l'accendiamo delirio facile dimenticare ubriacone mi si è un attimo gelato come dire il sangue questo casino qua che che avete fatto buonasera dunque siamo un'impresa di pulizie anche a te no non è al posto del primo va bene qui qualcuno ha fatto tutto casino è passato qualcosa che ha sfasciato tutto non può non può essere la mia deliziosa consorte amore amore santo no ma chi me lo fa fare ripeto non voglio rivedermi però ma chi me lo fa fare apro che c'è qui non posso nonchionare salva la sciatica che vedevo dire interruzione temporanea eh fatto purtroppo mi rompono pure mentre sto a fare quello che a me piace di più fare la seconda cosa ma che è sto ronzio sotto bozze di lavori tutti uguali di un quadro ce l'ha di nuovo con quei danati ratti non credo di averne visto nemmeno uno ma ciò non lo ferma dal disseminare il rappore per tutta la casa dice di poterli sentire nei muri e che devono essercene che devono essercene a centinaia Dio spero sia vero spero che sbuchino fuori di notte ti mangino mentre dormi crudele egocentrico egocentrico paterico ubriacone un'altra volta sempre la stessa frase dice non salgo qua sopra non ci posso ripostare mi fa vedere questo ma non ci posso andare perché perché non posso spostare questo mobile qua davanti questo cazzo di bavule ho aperto la porta cosa c'è qui ma questa è l'entrata chi ha aperto quella porta non aprite quella porta questa è la porta ecco la porta mazza come tutto sfasciato questi cazzo di jumpscare non vuoi che esca da casa signor signora mostro io esco sai ti faccio vedere chi porta i pantaloni dentro casa quando cazzo film ma che è sto corridoio insurso pieno di di si è mezzanotte oh cos'è voci salve eccoci qui si siamo qui c'è una protubera diciamo mi vedo sono dentro c'è un occhio c'è un occhio ma si apre sicuro non state affatto bene voi sviluppatori mi guardano tutti sono io dentro una scala cos'è che cazzo sono a terra nel senso proprio di morale no sono proprio a terra ok ci siamo alzati voglio vedere che c'è qui dentro oddio ma porca puttana qualcuno può far soccere questa nato cane scratta e squirtare le piazze è abbastanza questo stava matto come un cavallo vabbè signori usciamo di qua la porta in faccia ma la so data buonasera salve mi sento davvero così eccolo sorcio sorcio dove stai sorcio quella luce sospetta mi dice che io debba andare di là goccia dovrebbe esserci scritto è tutto ne vale la pena di che io entro mi zacchero di sangue citua piccola bastarda che mi fa prendere gli infarti è tutto che casca e penne da ste parti ma che cazzo ssh sienti tutti chi è che parla sebbene a volte sia vero che taluni artisti progrediscano superando i loro tempi e divenendo in tal modo incomprensibili per i critici contemporanei è mia opinione che questo semplicemente non ne sia il caso nonostante mi faccia male ammetterlo non ha fatto progressi non oserei dire ciò se fosse il contrario ciò di cui siamo testimoni è regressione artistica fanculo anche tu mi ispira non c'era con me stai parlando con me levati dalle palle questo è ciò che aiuta ad investire e dire che non mi sei più di nessun aiuto e dire che non mi sei più di nessun aiuto è certo ahi capito ha scomparsa un sorcio morto è scomparso va bene ah 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 non posso giocare di notte a sto gioco non lo posso fare questo messaggio per malicious ci sono andato vicino eh ci sono andato vicino i mortacci tu e di sta gran puttana maledetta che te bian corpo mi hai fatto prendere un infarto dove stiamo qua cos'è cos'è sto posto mi sa che ho fatto male a qualcuno ma che cazzo è un altro infernale ho capito che era necessario un piccolo dolore dura a lungo non vedo né merito ah c'è un interruttore della luce qui l'interruttore della luce la luce sopra ci sono le candele che c'ha tutto sopra dietro e lo soffia mia che te faccio ho fatto piangere sono stato uno strunzo sono stato uno strunzo che te posso fa però ma non è che mi puoi perseguitare c'è una porta è apparsa ora ho fatto appena un tempo a richiudergliela in faccia mi dispiace non ho visto bene quello che c'era dall'altra parte perché ho aperto ma si è richiusa la porta e ho visto le maniche vabbè io mi metto sempre da sta parte perché ah siamo arrivati un piano ma che è questo è il figlio di satana cosa cazzo è e chi c'è e riviagni ecco la ragazzina hai visto qua un'altra volta bimba ammazza che schifo non lascia ah la stanza dove prima sbatteva c'è stava a busto il casino ecco di che c'è non è il mio del cuore è del gioco ritorniamo incredibilmente sì allo studiolo di questo apparente strano sì dove è il telefono non trovo il telefono non c'è il telefono 3-6-3 non c'è una cabina qua è il topo morto le medaglie pronto 3 6-3 l'ho fatto ah forse devo rispondere a un altro telefono qua non c'è sì sì è incazzata mi ha tirato un bambolotto perché non sopporta che non rispondo al telefono oh cazzo che cazzo di spettacolo non cazzo di spettacolo non cazzo di spettacolo un attimo che la digerisco avete letto manca la fine sta prendendo l'orticaria un attimo solo no che volevo vedere come andava a finire che cazzo di spettacolo che spettacolo che spettacolo che spettacolo tre bordo l'ho detto forse il fatto che manchi la fine è fatta in questa maniera interrotta come una puntata è una stagione di una serie tv che magari ci appassiona ti dà il mordente per poi rimetterci le mani e quindi questa non è una fine però è l'ultimo episodio di Layers of Fear almeno finché non metteranno la fine o lo stanno ancora sviluppando non lo so se vi è piaciuto questa serie vabbè non ve le mosino niente se vi è piaciuta la mettete da soli mi piace vi chiedo solo iscrivetevi al canale commentate qua sotto ditemi che ne pensate di quello che avete visto cosa vi ha lasciato questa serie e per il resto fate come vi pare ciao a tutti da Layers of Fear da Ariel ciao